vuoi chiedere scusa alle famiglie di urgenza signora stanno valutando la perizia psichiatrica di suo figlio lei cosa pensa si sente personalmente il peso di quello che ha fatto il suo figlio sono morto io quei giorni e tutta la mia famiglia distrutta qual è la sua esperanza non è la sua esperanza